Valtidone è riunita in nome della sicurezza. Questa mattina nella sala consigliere del comune di Castel San Giovanni si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Anna Palombi con i rappresentanti delle forze dell'ordine e i sindaci di Castel San Giovanni, Borgonovo, Pianello, Nibbiano, Pecorara, Ziano e Caminata. I primi cittadini hanno rilevato un calo dei delitti in genere mentre nei comuni di Borgonovo e di Ziano si registra un aumento dei furti. Sono state anche esaminate le iniziative avviate con i cittadini per consentire il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Durante l'incontro il comune di Castel San Giovanni e gli istituti di vigilanza privata Ivri e Metronotte Piacenza con l'adesione dei vertici provinciali delle forze di polizia hanno sottoscritto il protocollo Mille Occhi sulla città già vigente nel comune di Piacenza che prevede lo scambio di informazioni tra istituti di vigilanza e sale operative dell'arma dei carabinieri e della polizia municipale di Castel San Giovanni per segnalare tempestivamente reati o situazioni di degrado urbano.